Questo è un talk su Qt Platform Abstraction, in questo talk vi farò una carrellata su che cos'è Qt Platform Abstraction, che fondamentalmente è un layer introdotto recentemente da Qt per permettere più facilmente porting verso nuove piattaforme. Vi mostrerò brevemente un po' di codice di come farlo, un codice molto semplice, didattico direi, dopodiché vi farò una breve carrellata di nuovo, però questa volta sulle piattaforme nuove che verranno supportate con Qt o su eventuali work in progress. Questa è un'area che è attualmente in fervente sviluppo da parte non solo di Nokia ma anche dalla community. Bene, il problema che c'era con Qt 4 è che il codice, fondamentalmente gli internals di Qt erano disseminati di ifdef in quel modo, cioè mentre le API di Qt, quindi gli utilizzatori di Qt, potevano fregarsene del problema di accedere a funzionalità specifiche di una piattaforma, gli internals di Qt dovevano ovviamente far riferimento alle funzionalità specifiche e questo è chiaro che ad un certo punto, per quanto la libreria esternamente sia cross platform, all'interno deve chiamare delle funzionalità che soltanto il sistema operativo può gestire e che quindi soltanto il sistema operativo gli può garantire. Però questo non vuol dire che il codice debba essere disseminato di ifdef come in questo caso. Diciamo quella è una situazione che si è venuta a creare nel corso degli anni perché non so se lo sapete ma le Qt ormai hanno circa 15 anni, le Qt 4 sono state pubblicizzate, sono uscite ufficialmente intorno al 2004, quindi si parla comunque di un po' di tempo passato. È stata un po' una cosa naturale il fatto che sono apparsi questi ifdef nei posti dove servivano. Questo però comportava che quando doveva essere fatto un nuovo porting non si sapeva esattamente che cosa c'era bisogno di fare. Fondamentalmente era più una ricerca pseudo casuale dei bug che venivano fuori e quindi anche per sfruttare le caratteristiche di una specifica piattaforma era un po' un problema. Oltre a ciò c'era anche un sacco di codice duplicato perché ad esempio negli ifdef che vedete ovviamente c'è tante cose che sono in comune fra Mac e X11. Non sono cose completamente differenti. Come saprete il Mac alla fine è sempre Unix, come Linux è basato su Unix. Quindi fondamentalmente la situazione era un po' un mezzo disastro e gli ultimi porting che sono stati tentati dai ragazzi della Trolltech sono stati un mezzo bagno di sangue. Quindi così non poteva andare avanti. Allora che cosa è successo? È nato un progetto di ricerca e sviluppo il cui nome originale era Lighthouse. Lighthouse appunto è nato come uno dei tanti progetti del Qtlabs e inizialmente visto che questo era un disastro quello che è stato fatto è stato aggiungere un altro ifdef fondamentalmente. Quindi è stata peggiorata ancora la situazione però è stato aggiunto un ifdef è vero però con l'idea di strutturarlo un po' meglio perché è vero che è stato aggiunto l'ifdef defined QVS QPA che starebbe per Qtq Platform Abstraction all'inizio vabbè era Lighthouse però come vedremo è la stessa cosa. Però è anche vero che è stato cercato di dare una forma a questo nuovo porting. Quindi è vero che si tratta di un nuovo porting in sé per sé però aveva una struttura del codice un po' fatta meglio fatta pensata dal giorno zero per essere espansa. Ecco un'altra cosa per cui è nato Lighthouse è che le Qt per embedded soddisfavano per certi versi non soddisfavano per altri. Erano troppo complesse per certi versi però non soddisfacevano nemmeno davvero gli utenti che cercavano di utilizzarle. Perché voi sapete che le Qt per embedded forse sapete il nome QVS da che cosa deriva? Sta per Qt window system. Quindi effettivamente quando si parla di QVS si intende un vero e proprio window manager. Tanto che le Qt per embedded hanno il supporto multiprocesso e hanno il supporto multifinestra. Anche se concretamente il 90% delle applicazioni non usano queste funzionalità. Quindi l'infrastruttura di QVS era sì potente ma nessuno la utilizzava. E questo chiaramente era un problema anche al momento in cui si voleva realizzare dei plugin che espandessero le funzionalità di QVS o che volessero semplicemente realizzare delle funzionalità o sfruttare delle caratteristiche non previste dalle Qt standard. Quindi qua vi ho messo un breve confronto fra quello che era l'Ethouse che come vedete è stato integrato dentro Qt a partire dalle Qt 4.8. Quindi vi dicevo è partito come progetto indipendente Qt labs è stato portato dentro come esperimento pur sempre con le Qt 4.8. Quindi io vi dico è stato portato dentro un esperimento perché non perché non dobbiate usarlo ma perché al momento le api di Lighthouse vengono comunque considerate un work in progress. Per cui non sono state messe fra le api pubbliche intoccabili. Non so se vi è stato detto se lo sapete già ma le Qt hanno una policy molto stringente per quanto riguarda le versioni e la compatibilità perché non soltanto viene garantita la compatibilità dei sorgenti ma viene garantita anche la compatibilità binaria. Quindi questo vuol dire che ad esempio io non posso modificare l'ordine delle funzioni e aggiungere delle funzioni in mezzo ad una classe senza rompere proprio la compatibilità binaria. Quindi chiuso un attimo questa parentesi Qt Lighthouse è stato integrato con le Qt 4.8 come un nuovo porting ma con Qt 5 non esisteranno più le altre piattaforme. Non esisterà più tutti questi FDEF ma l'unica piattaforma che ci sarà è Qt Platform Abstraction che va a definire un api espandibile a plugin che cerca di rendere Qt GUI Windows System Agnostic. Quindi indipendente da quale Windows Manager sto effettivamente utilizzando. In questa slide vi ho voluto proporre un breve confronto fra il Qt Windows System usato nel Qt Embedded e QPA. Come vedete si potevano fare dei plugin dei graphics system anche con QvS però anche lì è dato la potenza di QvS e c'aveva l'effetto collaterale che l'api era un po' complessa. Mentre QPA è molto più semplice. Lo vedremo fra poco quali sono le classi da rimplementare per fare un plugin con QPA. Ma vi renderete conto che è davvero semplice portare le Qt su una nuova piattaforma. QvS aveva Windows System integrato. Con QPA no. Questo vuol dire che se siete nel malaugurato caso in cui state usando un Linux Embedded e usate QPA avete bisogno di più processi o più finestre e dovete usare un qualcosa di esterno. Dovete usare ad esempio un Windows Manager esterno. Ma questo appunto è stato dichiarato che non è l'obiettivo di Qt fornire un Windows Manager. Abbiamo un sacco di nuovi Windows Manager che sono immersi anche grazie alla nascita e alla diffusione sempre più grande degli smartphone. Quindi se qualche tempo fa il problema di trovare un Windows Manager decente, non troppo pesante, si faceva sentire, questo problema sta pian piano diventando sempre più piccolo. QvS aveva anche qualche problemino con le OpenGL. Inizialmente non erano proprio implementate, sono state implementate dopo, ma comunque avevano qualche limitazione, in particolare sul contesto. Invece QPA lo implementa nel modo giusto, diciamo. Qui vi ho mostrato una breve panoramica su alcuni dei plugin che sono già disponibili per QPA. In particolare c'è XCB che è plugin per X11 fondamentalmente, Wayland, i vari Linux FB, Direct FB che vanno a rimpiazzare quello lì che era il QVS. Chi usava il QVS una volta ora dovrà usare probabilmente Linux FB. E fra questi qui c'è anche, vabbè, QVS che alcuni conosceranno, ma c'è anche Minimal che è il, come dice il nome, non ci vuole tanta fantasia, è un plugin minimo che sarà quello lì che vi mostrerò fra poco per darvi un'idea di cosa significa scrivere un plugin per QPA. Come facciamo a scrivere un nuovo plugin per QPA? Il plugin di QPA deve implementare una certa interfaccia. Quest'interfaccia è questa classe che si chiama QPlatform Integration. Con questo grafico ho voluto mostrarvi che cosa è che succede, e del grafico devo ringraziare Thomas a cui l'ho rubato spudoratamente dalla sua presentazione, ma quello che succede fondamentalmente è che le QT hanno bisogno di appoggiarsi su qualcosa che soltanto il sistema operativo può fornirgli. Quindi, ad esempio, voglio disegnare un Qwidget, ok, se il Qwidget è in realtà una window di top level, allora io ho bisogno di un window handle del sistema operativo, quindi qualcuno me lo dovrà restituire. Oppure ho bisogno di una surface dove disegnare. Nel caso di una Qpixmap ho bisogno di un posto dove tenere dati. E nel caso di un font ho bisogno di sapere qual è il DPI per sapere il pixel size per poter fare il disegno. Quindi ho una serie di funzionalità che le classi DQT hanno bisogno per poter fare quello che fanno. Queste funzionalità sono esposte attraverso questa classe Qplatform Integration che poi va a interfacciarsi con il sistema operativo. Questa è quella lì che va reimplementata nel plugin, è la plugin API. Questa è una breve vista un po' tagliuzzata per farci entrare nella slide, ma ho eliminato un paio di const, ho tolto gli argomenti, ma penso che sia comunque molto chiara. Come vedete c'è CreatePixmapData, quello che vi dicevo prima, ho bisogno di un posto di memorizzare dati, CreatePlatformWindow, CreateWindowSurface, quindi ho bisogno della finestra o ho bisogno della superficie su cui fare il disegno, quindi il contenuto della finestra. Sono concetti differenti. Ho bisogno di sapere come è fatto lo schermo, che potrebbero essere anche più di uni, per quello c'è la Qlist di Qplatform Screen, e poi ho bisogno di interfacciarmi con il sistema operativo per sapere quali sono i font disponibili sul sistema. Io vi ho fatto vedere un attimino quali sono le classi, vediamolo adesso nel dettaglio, nel dettaglio per modo di dire. Abbiamo detto che c'è Qplatform Screen che rappresenta lo schermo fisico, ha un API read-only e può gestire l'inizializzazione se necessario dello schermo. C'è la Platform Window, che è la finestra, e quindi ha un API che è orientata a sapere dove è posizionata questa finestra, e chiaramente si interfaccia con il Window Manager. Dopodiché c'è la Window Surface, che gestisce il contenuto, e il disegno dei pixel sullo schermo. Poi ci sono le ultime due classi, che sono la QPixMap Data e la QPlatform Phone Database. Come dicevo prima, la QPixMap Data è il posto dove è necessario memorizzare i dati della PixMap. Per fortuna, quei santoni della QT hanno deciso di farci addirittura tre versioni alternative, in modo che noi non dobbiamo scriverci la nostra funzione. Perché, come ho detto prima, questa qui è una classe, è un'interfaccia, ma è anche una classe Factory. Quindi la sua interfaccia è restituire una serie di classi, o sottoclassi. Quindi, non è nemmeno necessariamente detto che io mi devo riemplementare tutto quanto. Anzi, come vedremo, quello da riemplementare è decisamente poco. Quindi abbiamo detto che c'è la PixMap Data, che ha tre versioni alternative. In modo simile, per avere font database del sistema, ho tre possibilità. E quindi, il codice che devo scrivere è ben differente da quello che sarebbe se avessi dovuto riscrivere tutto da K. Adesso, quello che volevo fare è mostrarvi che cosa c'è da fare veramente, e che cosa è stato fatto nel plugin minimal, che, come la slide spiega, rimplementa Qplatform Screen e QWindows Surface per fare il disegno su un'immagine. Considerate che questo è un plugin molto semplice, è stato realizzato con l'idea di essere molto semplice, poche righe di codice, quindi non si poteva integrare davvero con il sistema operativo, con il window manager. La cosa che era più facile gestire era il disegno su un'immagine. E quindi questo è quello lì che vi mostrerò. Allora, partiamo dal file di progetto. File di progetto? Sì? Sì? Validità. Validità. Preferenza. Carattere colori. Validità. Validità. Vedete? il file di progetto in sé per sé questo vi dice poco perché il vero file di progetto è quello incluso come vedete è un chiaramente usa il template lib perché non deve fare il passo di linking e soprattutto c'è questo config più uguale a plugin come vedete qua faccio l'export del plugin e quello lì che fa è creare la mia sottoclasse della Qplatform Integration la mia sottoclasse che è stata chiamata QMinimal Integration qua c'è un po' di roba standard del meccanismo a plugin tipo quella è la chiave di ricerca del plugin e il fatto che questa classe è una sottoclasse di Qplatform Integration Plugin questa è roba che vale genericamente quando io devo scrivere un plugin per Qt anche quelli di che vi ho fatto vedere nel file di progetto dopo di che ci sono le classi un po' più interessanti che sono la QMinimal Integration punto H file questo qua dove vedete sono state semplicemente nell'H qui beh non c'è molto da da osservare perché semplicemente sono gli stessi metodi che vi avevo fatto vedere nella classe Q Platform Integration sono stati semplicemente rimplementati ecco qua vediamo qualcosa di più interessante come sono stati rimplementati sono stati rimplementati come schermo c'è un QMinimal Screen che ora andiamo a vedere viene fissata la dimensione 320x240 la profondità di colore il formato dell'immagine dopo di che se ricordate c'è la gestione potenziale di più schermi e quindi noi in questo caso qui ne abbiamo uno solo e quindi nella lista degli schermi andiamo a fare l'append del nostro unico schermo di dimensione 320x240 poi c'è la escapability lasciamo stare come la create pixmap data io devo fare il disegno di immagini quindi fra le varie pixmap data che mi vengono messe a disposizione da QT la QRaster pixmap data è senza dubbio la più adatta per il disegno su immagini quindi posso usare quella lì la platform windows c'è già un'implementazione di default della platform windows quindi non devo fare niente così come la create windows surface mi dà già una classe che ha i suoi metodi con l'implementazione di default alla fine quindi quello che devo andare a fare è vedere come è stato fatto questo QMinimal Screen no scusate la surface la surface è abbastanza banale ritorna il paint device che serve per fare il disegno su quella superficie ha un metodo flush per quando veramente deve andare a fare il disegno e supporta resize quindi questa è l'interfaccia della windows surface come vedete la nostra classe minimale ha un membro privato che è l'immagine che utilizzerò veramente per fare il disegno quindi nel paint device siccome una cui image è un paint device quello che viene fatto è ritornare l'indirizzo dell'immagine che voleva un puntatore un paint device la flush quello che va a fare è fare il salvataggio su disco dell'immagine che avevo in memoria e quindi vedete c'è image mimage .save e poi vabbè c'è il resize e questo è tutto non c'è nient'altro da implementare in un caso chiaramente così semplice i casi reali sono un po' più complessi però questo serve a darvi l'idea di come adesso sia decisamente più facile fare un porting di Qt su un'altra piattaforma in realtà il caso reale prevede anche un'altra direzione perché io vi ho detto che c'è questa Qplatform integration che praticamente mi implementa un'interfaccia per cui le classi di Qt che vogliono implementare una certa funzionalità vanno a richiedere all'interfaccia ok dammi un oggetto che abbia certi metodi una certa interfaccia per cui io mi posso usare quello lì mi posso interfacciare con quell'oggetto per implementare le mie cose quindi nel caso della Pixmap utilizzo posso chiedere appunto un Qpxmap data pointer e farci tutto quello che ho bisogno ma non c'è solo questo lato c'è anche l'altro lato l'altro lato è quello implementato dalla Qwindow System Interface e va a coprire appunto la direzione da dove dalla piattaforma io voglio comunicare qualcosa a Qt e che cosa mi serve tipicamente mi serve per gestire gli eventi ho un evento di mouse un evento da tastiera un touch screen un resize della finestra un mi può cambiare la risoluzione dello schermo quelli sono eventi che mi provengono dal sistema operativo se le mie classiche Qt devono fare qualcosa ad esempio magari voglio che la mia applicazione se mi viene iconizzata non mi vada più a ciocciare tutta la cpu perché non serve a niente cioè quella è una è una classica cosa per cui ho bisogno di un evento dal sistema operativo e mi dica che l'applicazione non è più quella lì che ha il focus e questa interfaccia qua è composta da è una classe che implementa una serie di metodi statici thread safe che io posso chiamare dal mio plugin quindi quello che succede è che il mio plugin che sa come funziona nel sistema sottostante le cose si accorge che c'è un evento del mouse o un evento della tastiera richiama la funzione apposita della qwindow system interface che a sua volta genera un evento qt che viene dispacciato al loop degli eventi di qt quindi rientra a questo punto nel ciclo normale di come funziona l'applicazione qt da dove arrivano gli eventi dal sistema ok ci siamo quasi quindi ora abbiamo finito la parte noiosa vediamo adesso la parte che interessava poi a tutti quanti qt su ios fondamentalmente qua ci sono le nuove piattaforme non c'è soltanto ios o android ma diciamo questo è un po' il riassunto della situazione per ios c'è stato un port un prototipo di porting che è quel ui kit se cercate ui kit nei qt labs di nokia trovate un po' di documentazione trovate i link riferimenti trovate anche le demo di persone che hanno fatto girare il qml addirittura su iphone quindi qualcosa c'è però che cosa qual è il problema il problema grosso riguarda le licenze e un po' anche il deploy perché le licenze per l'app store che è presente sull'iOS è una licenza che fondamentalmente impedisce il linking dinamico ma questo contrasta con la licenza lgpl questo è un primo grosso problema l'altro problema è che se anche compilassi staticamente otterrei delle librerie un'applicazione ben più grossa rispetto alla concorrenza in un mercato dove ci sono addirittura delle classifiche delle applicazioni più leggere da scaricare quindi capite che ad oggi la situazione di Qt su iOS è probabilmente è un amore che non succederà mai almeno non ufficialmente su Android il discorso cambia per chi segue il mondo Qt saprete che ormai da diverso tempo esiste un porting di Qt su Android che si chiama Necessitas Necessitas non è soltanto Qt su Android ma è l'intero ambiente di sviluppo il suo autore che non è una persona che lavora in alcun modo per Nokia ma è semplicemente un appassionato non soltanto si è occupato di fare il porting di Qt in sé per sé ma ha portato anche l'ambiente di sviluppo per cui è possibile da Qt creator modificato fare la compilazione e l'installazione su un dispositivo Android quindi al momento non c'è nessun piano per avere ufficialmente Qt su Android però avete ascoltato in questi giorni che cosa succede in Qt5 il fatto che è guidato liberamente dalla community fondamentalmente infatti si parla adesso di Qtproject c'è un sito suo se se la community ha qualcuno che può lavorare su degli aspetti che non sono di interesse vitale per quelli di Nokia beh va bene la cosa sarà implementata in Qt il fatto che una cosa non sia di interesse vitale per Nokia non vuol dire che non potrà essere in Qt 5 perché chiaramente il grosso lavoro verrà fatto per loro l'ultima cosa che vi voglio far vedere poi vi lascio la prima azione che è sempre ben gradita è Google Native Client che cos'è Google Native Client e che cosa rappresenta questo porting Google Native Client è una tecnologia che è stata distribuita diciamo è venuta fuori con Chrome e Chromium per far girare un'applicazione x86 in un sandbox all'interno del browser questo porting vuol dire che nella speranza di tutti un giorno avremo la nostra applicazione Qt che attraverso l'installazione magari di un semplice plugin per browser può girare all'interno del browser Chrome o Chromium chiaramente questo va a ridurre di molto la distanza fra un'applicazione web è un'applicazione compilata con Google Native Client dove tra l'altro si parla di una perdita di performance per girare su questo sandbox dell'ordine del 10% quindi girano alla velocità di applicazioni native eppure non lo sono bene io ho finito e quindi se avete domande sono qua se no possiamo pure procedere con la premiazione ma non sentitevi obbligati a procedere a direi io ho finito Grazie a tutti